Le chiese a Cuba sono poche e molto distanti fra di loro. Durante il suo governo Fidel Castro ha fatto di tutto per evitare che la fede si diffondesse fra gli abitanti di Cuba. I pochi luoghi di culto rimasti non sono molto frequentati e continuano ad avere alcuni problemi con il governo, come raccontano gli appartenenti alla chiesa presbiteriana di Lavana. Il governo autorizza le varie religioni, però non si associa a nessuna di esse. In verità, come racconta un prete cattolico di una chiesa a Lavana, la situazione è ancora molto negativa. Il governo impedisce l'apertura di altre chiese e fa di tutto perché i cubani nascondano il proprio interesse verso la religione. In questo momento il problema d'Iglesia-Stato sta più aliviato, ma sempre esistono tensioni, sempre esistono difficoltà. E l'Iglesia, in una maniera o in un'altra, si trova controllata, si trova con la supervisione del governo. In questo momento il problema chiesa-stato si è livellato, però sempre ci sono tensioni e difficoltà. E la chiesa è sempre, in qualche modo, controllata dal governo. Essere cattolico non dovrebbe essere un problema, però incontro molto spesso delle persone che lavorano negli uffici del governo e non sarebbero ben viste se rivelassero la loro fede cattolica. In futuro spero che non esista un solo partito in Cuba, ma una pluralità di partiti con i quali la chiesa possa dialogare.